ciao ragazzi allora siamo giunti al termine di questa nuova esperienza questo il nostro quinto e ultimo video che pubblicheremo sul canale di youtube e quindi vi chiedo colleghi educatori commenti a caldo rispetto a come andata beh personalmente a me sembra più che bene visto insomma le visualizzazioni per essere la prima volta e oggettivamente senza voler offendere nessuno tre improvvisati in questa cosa mi sembra che un po' di gente li abbia guardati ma sì dai forse avrei voluto vedere più foto e commenti ai nostri video e le nostre proposte però in realtà ti dico che un po' di risposte ci sono state per esempio comunque a me un po' di foto di scarpe e ciabatte sono qualcosa che è un cazzo eh ah e dai anzi sarebbe anche carino è un po' perché l'avevamo anche promesso in uno degli episodi magari di condividerne qualcuno con anche con chi ci sta guardando in questo momento che dite certo poi ecco non so per voi ma la scelta su quelle quelle foto da da condividere è un po' difficile quindi ho bisogno di un po' di tempo per pensarci bene ok quindi al lavoro ok sono arrivato alla scelta definitiva allora ovviamente tra tutte quelle arrivate vi propongo queste tre che adesso andremo a vedere insieme e come vedete è anche segnato il perché le ho scelte ottimo che belle super simpatiche invece mentre tu stavi pensando alle foto da proporre io mi sono andata a rileggere un po' di commenti riguardo al video di se di prevalle se vi ricordate che abbiamo chiesto di mandarci le loro frasi manda mandarci gli audio e ho raccolto qualche frasettina tra tutte quelle che ci sono arrivate ne ho scelta una che secondo me insomma rappresenta un pochino di più open in quanto riguarda la scuola ed è questa sei di prevalle se anche tu hai partecipato alla creazione del murales della scuola infatti c'è un fantastico Giovanni Verga un murale stupendo che tutti i ragazzi sia della scuola che di open hanno visto e quindi direi che questo è quello che ho preferito perché riguarda un pochino il nostro servizio ecco bene Michela direi ottima scelta bello e colorato bella sì quindi mentre voi guardate le foto delle ciabatte delle scarpe e le frasi sul se di prevalle se io sono andata a rivedermi un po' i video che abbiamo pubblicato i nostri episodi e ho letto i commenti che ci hanno lasciato i nostri amici su youtube e ne ho scelto uno che mi ha lasciato un po' perplessa ma che comunque secondo me a me piace che è il commento dove ci dicono che siamo stati bravissimi a recitare ma secondo voi è perché siamo davvero bravi a farlo o invece no non lo so per me perché siamo bravi a recitare cioè io la vedo così sicuramente sicuramente questa è la versione corretta assolutamente d'accordo quindi sia Michela che io sottoscriviamo questa cosa perfetto ma invece è così dico l'avventura appunto è la sua conclusione è questo questo esperimento che ci ha messo un po' alla prova con la tecnologia un po' anche con come dire magari la vergogna che avevamo all'inizio di comunque dimostrarci di far vedere anche qualcosa della nostra vita quotidiana di fare entrare queste riprese in casa nostra però diciamo l'esperienza poi è andata avanti io mi sono anche divertito poi col passare del tempo e delle cose un po' anche merito vostro le gafe, errori di tutti che abbiamo e che ci sono successi nelle registrazioni e è un po' curioso visto che abbiamo passato un po' di tempo insieme in questi episodi volevo chiedervi adesso che progetti avete a breve termine cioè che progetti avete appunto per quest'estate? beh io in un episodio ho parlato del fatto che mi ero un po' messa e rimessa in forma in questa quarantena no e quindi diciamo che quello che vorrei fare io in questo in quest'estate diciamo così è magari fare qualche sport qualche camminatina qualche corsetta una cosa così ecco molto semplice invece io penso che non abbandonerò la mia esperienza culinaria per cui andrò avanti a fare qualche ricettina magari che condividerò con altre persone ora che si può insomma non cucinerò solo per me stessa invece Matteo cosa vorresti fare? beh dopo tutto ma anch'io cose semplici e come come voi nel senso che chiusi così tanto in casa penso che un paio di viaggetti me li concederò ma ovviamente cose semplici e scontate così una gittarelle da gittarelle fuori porta che bello direi che siamo arrivati ai saluti finali cosa dite? eh purtroppo credo allora vi mando un bacione a tutti grazie per averci seguito in questa in questa nuova avventura speriamo di avervi fatto un po' di compagnia nelle vostre giornate quarantena e buona estate e direi che ci rivediamo a settembre esatto ecco io il bacione invece non ve lo do perché la barba potrebbe anche dare fastidio a fortuno però mi unisco chiaramente ai saluti e all'augurio di passare che possiate passare comunque una divertente e serena estate con ambizie con le persone insomma a cui volete bene e nella speranza diciamo con l'obiettivo di vederci di persona il prima possibile a settembre con insomma di tutte le attività solite quindi buona estate esatto io invece il bacione lo mando comunque perché anche non ho la barba quindi posso farlo e grazie per aver partecipato ai nostri episodi per averci guardato speriamo davvero di aver fatto un po' ridere e un po' divertire le nostre attività e speriamo davvero di vederci a settembre fate i bravi mi raccomando state sempre a te ciao 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 ciao